Grazie, ringrazio davvero Renato Betti e Giulio Magli per avermi invitato a tenere questo seminario. Lo faccio veramente volentieri, sia perché così posso parlare un po' di geodesia spaziale e anche perché mi ha dato l'opportunità di approfondire un aspetto che di fatto non è direttamente la stima del campo di gravità della Terra, la stima del geode, quanto la storia dei satelliti geodetici che fin dalla fine degli anni 50 sono stati, inizialmente non erano proprio già satelliti geodetici, erano satelliti magari per altri scopi che i geodeti hanno cominciato a utilizzare per avere misure che permettessero di stimare il campo della gravità e poi ci sono state missioni geodetiche proprio dedicate. Quindi avevo già un po' di materiale su questo argomento che mi interessava molto e così ho avuto l'opportunità di completare questo materiale. Ci sarebbe molto altro da cercare e da dire, però io cercherò di essere sintetica e raccontarvi le tappe fondamentali della geodesia spaziale. Ecco, intanto, in realtà di geodesia vi parlo poco, poi vi parlo, come vi dicevo, dei satelliti e delle missioni geodetiche, però vi voglio far notare che siamo tutti in buona compagnia quando si parla di geodesia e spero che i matematici riescano a individuare rapidamente in questi tanti nomi, che di fatto ho selezionato da una lista ancora più lunga, ecco che riescano a individuare. Ci sono davvero dei matematici molto molto famosi e anche di più qui in questa lista. Vi faccio solo notare la Place Legendre Gauss, che ha dato davvero un contributo fondamentale alla geodesia. E poi ci sono tanti nomi che per i geodeti vogliono dire molto, sia dal punto di vista degli studi teorici che hanno compiuto, sia dal punto di vista delle applicazioni a cui questi studi teorici hanno dato luogo. Tutti questi geodeti, matematici e geodeti, non ci sono più, tranne Helmut Moritz, l'ultimo nome che ho lasciato, l'unico vivente, il professor Moritz, molto anziano, però c'è ancora, e poi mi fa piacere ricordarlo, oltre che per il suo contributo fondamentale alla geodesia, il libro Physical Geodesy, la versione scritta con Ice Cannon, per il fatto che è stato anche in parte uno dei maestri del professor Sansò, il professor Sansò ha studiato negli anni 70 a Gratzko, il professor Moritz, e quindi possiamo dire che è stato anche un suo allievo e il professor Sansò è stato il mio maestro per quanto riguarda la geodesia, tuttora molto attivo, ma in pensione, dal primo gennaio di quest'anno, anche se è ancora appunto molto attivo. Quindi siamo in buona compagnia per lo studio, proprio ho cercato di sintetizzare, se devo dire in due parole, cos'è la geodesia? Studiamo come misurare e rappresentare la forma della Terra e il suo campo della gravità, e le variazioni temporali del campo della gravità e anche della forma della Terra, che si possono verificare, e studiamo anche molti altri aspetti che riguardano la forma e le dimensioni della Terra, magari qualcuno verrà fuori nel corso adesso di questo seminario. Cerco di sintetizzare tutto quello che si potrebbe mostrare dal punto di vista delle equazioni in geodesia, in due sole equazioni, molto molto importanti davvero, senza dimostrazioni, senza molte spiegazioni, giusto per capire su cosa basiamo gli studi del campo gravitazionale terrestre. L'equazione di Laplace, il campo generato dalle masse della Terra, dalle masse che compongono la Terra, è un campo conservativo, valgono tutta una serie di condizioni, naturalmente, sul contorno e nello spazio all'interno delle masse, all'esterno delle masse. Quello che è molto importante, specialmente se parliamo di geodesia spaziale, è l'equazione di Laplace, perché questa è un'equazione che vale per il potenziale del campo generato dalle masse della Terra, all'esterno delle masse che generano il campo. All'interno, invece, si dimostra che vale un'altra equazione, che è la cosiddetta equazione di Poisson, che dipende anche dalle masse. Qui vedete l'equazione di Laplace, la scriviamo in coordinate cartesiane, è semplicissima anche da ricordare, invece, se la trasformiamo in coordinate sferiche, che richiede alcuni passaggi, ma comunque si possono fare senza troppa difficoltà, allora vedete che ha un aspetto che per i geodetti è un pochino più significativo, perché dipende dalle coordinate sferiche, quindi da essenzialmente φ e λ, latitudine e longitudine del punto in cui vogliamo determinare il potenziale, e r, r piccolo, che è la distanza del punto dal geocentro. Quindi queste sono le coordinate sferiche, che vi, appunto, è il simbolo che usiamo solitamente per esprimere il potenziale del campo gravitazionale terrestre. Ora, dimostrato che vale questa equazione nello spazio esterno alle masse, una funzione che soddisfa l'equazione di Laplace, si dice che è una funzione armonica, i matematici lo sapranno meglio di me, il potenziale gravitazionale terrestre è una funzione armonica, se io cerco la soluzione dell'equazione di Laplace in coordinate sferiche, trovo questa equazione, che è quella che noi utilizziamo come equazione del potenziale gravitazionale terrestre. Quindi il potenziale in coordinate sferiche, quindi in funzione di r, phi e lambda, è rappresentato da uno sviluppo in serie di funzioni armoniche sferiche. Dove le funzioni armoniche sferiche sono queste funzioni P, L, M, che sono i due indici delle due sommatorie, che sono solo funzione della latitudine, sono le funzioni associate di Legendre, moltiplicate per coseno di M lambda o seno di M lambda. Quindi, questa equazione, che ha un primo indice che si chiama grado, la prima sommatoria, un secondo indice, l'ordine, almeno questa è la terminologia che utilizziamo, spero che sia anche la terminologia standard dal punto di vista di un matematico, non sopra i dirvelo, Il primo indice, la prima sommatoria, ha infiniti termini, se la vogliamo scrivere in maniera esatta, questa soluzione dell'equazione di Laplace. Naturalmente, dal punto di vista numerico, non saremmo in grado di risolverla, di calcolare esattamente questa espressione, però, fortunatamente, possiamo permetterci di troncare la prima sommatoria a un grado L grande o L massimo, chiamatelo come volete, e dimostra che converge questa serie di funzioni e questo ci permette di calcolare numericamente il valore del potenziale nei punti che ci interessano. Quindi, rispetto all'equazione che abbiamo visto appena prima, la differenza è che ho troncato la prima sommatoria a un grado L massimo. Allora, qui ho indicato quali sono tutti i simboli che vengono introdotti e che vengono utilizzati in questa equazione, quindi, come vedete, come vi avevo detto prima, i PLM, le funzioni associate di Legendre per i cosseni e i seni di ML, sono le funzioni armoniche sferiche di grado L e di ordine M. Quei parametri CLM, SLM che vedete in quell'espressione, sono i cosiddetti coefficienti dello sviluppo in serie di armoniche sferiche, sono i coefficienti del modello di geoide, sono quei valori che dobbiamo determinare numericamente se vogliamo calcolare un modello di geoide. Questa è l'espressione che ci serve per l'equazione, che ci serve per definire il geoide. L'ho messa fra virgolette, è una definizione di Gauss. Se vogliamo determinarlo numericamente, un modello di geoide, dobbiamo essere in grado di fare un numero di misure sufficienti a consentirci di risolvere un problema di stima dei parametri di questa equazione, i CLM, SLM, insomma. Questi coefficienti ce ne sono, esattamente dovrebbero essercene, L più 1 per L più 2, ma diciamo per avere un'idea del numero di coefficienti che dobbiamo calcolare per calcolare un modello di geoide, sono L alla seconda, il grado alla seconda, uno per la parte coseno e uno per la parte seno di questa equazione. I modelli più recenti arrivano a un grado massimo superiore a mille, quindi questo vuol dire, come ordine di grandezza, un milione di coefficienti da stimare numericamente, quindi un numero molto elevato di misure che coprano tutta la superficie terrestre per determinare un modello di geoide. Ecco, l'avevo anche inserito, ma molto velocemente, per avere un'idea che aspetto hanno le funzioni associate di Legendre, Andra, quelle che avevo chiamato PLM di seno di Φ, che avevamo visto nell'equazione precedente, qui non ho spiegato tutti i simboli, quindi sicuramente c'è qualcosa di misterioso, però hanno questo aspetto da... questo è il seno di θ, quindi diciamo la colatitudine, da polo sud a polo nord. Oh, scusate. Da polo sud a polo nord. Queste sono le funzioni associate di Legendre per un LM e questi sono i polinomi, cioè per M uguale a zero. Cosa succede quando M uguale a zero? Questi si chiamano polinomi di Legendre, sempre da polo sud a polo nord. Un'altra cosa carina che si può vedere adesso, che si possono programmare queste funzioni in MATLAB, è l'aspetto di queste base function, che si utilizzano per rappresentare il geoide, quindi le armoniche sferiche. Queste sono alcune armoniche sferiche di grado 6 e di ordine diverso. Io ricordo che nel libro del Kola, che studiavo un bel po' d'anni fa, del libro di Geodesia Spaziale, non era possibile ovviamente avere figure, come dire, così belle da vedere, che ci facessero capire che aspetto hanno queste funzioni, quindi figure molto approssimative e in due dimensioni. Io personalmente ricordo che avevo delle grosse difficoltà a capire effettivamente quale fosse l'andamento, l'aspetto di queste funzioni, in funzione della latitudine o della longitudine. Comunque è un grosso aiuto, io trovo, per almeno visualizzare cosa vuol dire rappresentare il geoide in termini di una base di funzioni armoniche sferiche. Ecco, quello che, prima di farvi vedere le figure, vi stavo spiegando, è appunto dobbiamo determinare questi coefficienti CLM, SLM, che misure ci occorrono. In Geodesia noi possiamo utilizzare, per stimare questi coefficienti, delle misure di gravità essenzialmente, perché ovviamente il campo di gravità della Terra dipende la distribuzione delle masse, dalla densità delle masse sulla superficie terrestre e anche all'interno della superficie terrestre, che rende le cose anche abbastanza complicate. Comunque, essenzialmente, si possono fare misure di gravità da Terra con dei gravimetri. Oppure possiamo montare i gravimetri a bordo di aerei, e quindi abbiamo la gravimetria da aereo, quindi l'aereo è la piattaforma su cui si può montare il gravimetro. Oppure possiamo fare misure da satellite, però attenzione, sono misure da satellite, in realtà non sono misure eseguite con un gravimetro, ma con strumentazione un po' diversa, come appunto scopriremo poi nel corso della parte principale del mio seminario. E tenendo anche sempre presente un'altra questione, che vedete qui, all'interno della doppia sommatoria, subito io ho un termine che è un rapporto fra un R grande e un R piccolo. R grande è il raggio medio terrestre, R piccolo è la distanza del punto di cui voglio conoscere il potenziale, rispetto al geocentro. Allora, più mi allontano dalla superficie terrestre, questo è un termine che attenua l'effetto del campo, e quindi finché sto su un aereo col mio gravimetro, va bene, sono abbastanza vicina alla superficie terrestre, ma man mano che mi alzo in quota con un satellite per fare misure di, poi vedremo qualche funzionale del campo della gravità, il segnale si attenua e quindi dipende, va bene, misure da satellite, ma bisogna vedere a quali quote si deve stare o cosa si può fare alle varie quote, perché c'è l'effetto di questo termine attenuativo, che oltretutto è elevato alla L più 1, quindi man mano che il grado della sommatoria aumenta, questo termine si attenua ancora di più l'effetto del campo. Vi faccio notare solo un'altra cosa, per quanto riguarda questa equazione, che qui davanti alla doppia sommatoria c'è il cosiddetto termine centrale, G è proprio la costante gravitazionale universale, M è la massa della Terra, tutta la massa della Terra, e R è il raggio medio terrestre. Il potenziale V sarebbe uguale esattamente a Gm su R se tutta la massa della Terra fosse concentrata in un punto, l'effetto del campo centrale, o se fosse uniformemente distribuita all'interno di una sfera, diciamo così. Ovviamente questo non è, prima di tutto c'è l'effetto dello schiacciamento ai poli, che è un grosso effetto sul campo gravitazionale terrestre, e poi gli effetti che vengono tenuti in conto grazie a tutte le altre armoniche. Ecco, in termini numerici, quindi, scusate, in termini numerici, noi possiamo avere molte misure, appunto, di gravità, o misure di qualche altro funzionale del campo gravitazionale terrestre, diciamo essenzialmente semplificando davvero molto, pensate di risolvere un problema di stima di parametri a minimi quadrati, un grosso, grosso sistema di equazioni in realtà un pochino più complessa, la faccenda, ci sono equazioni di condizioni, si possono stimare, quindi, a partire da equazioni d'osservazione di gravità e appunto di altri funzionali, si possono stimare i coefficienti, questo è esattamente il CLM, SLM, per i diversi gradi e ordini, questi sono appena fino a grado 4, è un esempio di un modello, non mi ricordo neanche più qual era un modello OSU, probabilmente un modello un po' vecchio, ma non importa, è giusto per vedere, numericamente vuol dire questo, stimare il geoide, calcolare i valori dei parametri dello sviluppo in serie di armoniche sferiche con i corrispondenti errori di stima, naturalmente. Dal punto di vista numerico va benissimo, questo è un modello di geoide. Dal punto di vista visivo, se voglio vedere qual è l'aspetto del geoide, allora posso tradurlo in mappe. Questi coefficienti possono dar luogo a mappe o di anomalie di gravità, come in questo caso su tutta la superficie terrestre, questo è un modello globale, oppure di ondulazioni del geoide, ondulazioni del geoide, cioè una mappa di distanze del geoide rispetto a una superficie di riferimento più semplice che di solito è un ellissoide, quindi una bella superficie liscia, calcolo le distanze del geoide rispetto all'ellissoide. Questa è una mappa di... non lo so dire con esattezza, scusate, non mi ricordo se sono... perché non riesco a leggere i numeri, credo che siano ondulazioni del geoide. Credo che siano ondulazioni. L'altra cosa che possiamo ricordare è che, dal punto di vista fisico, il geoide, se vogliamo immaginarci mai il geoide, dove è, dove passa, come lo individuo, è sotto una serie di condizioni molto particolari, è coincidente con la superficie media dei mari, degli oceani, come se ne lo prolungassimo sotto le terre emerse, e se fossimo davvero in condizioni molti ideali, tutto fosse perfetto, diciamo così, potremmo pensare che il geoide coincida esattamente con la superficie dei mari, che è naturalmente... Allora, adesso andiamo ai nostri satelliti. Ovviamente, come vi avevo detto, si devono fare misure di gravità a terra, si fanno molte misure di gravità ad aereo, però, se vogliamo avere una buona copertura di tutta la superficie terrestre, con una serie di dati che ci possono consentire di calcolare un modello globale di geoide, allora dobbiamo sfruttare la tecnologia spaziale. E la geodesia ha cominciato subito a, diciamo, sfruttare la tecnologia spaziale fin dall'inizio dell'era spaziale. Allora, qui ho cominciato a raccogliere appunto un po' di immagini e di dati sui primi satelliti artificiali che sono stati messi in orbita attorno alla Terra. Naturalmente lo scopo non era la geodesia, ma poi i geodetti sono stati pronti a cogliere questa opportunità. E qui naturalmente non poteva mancare quello che viene così, che è il primo satellite artificiale della Terra, che sapete era allora Unione Sovietica, Sputnik 1. Vi ho trovato, vi dirò tutta una serie di curiosità, molto velocemente da quello che vedo da allora. Sputnik vuol dire compagno di viaggio, sì, cioè in astronomia è il termine russo che si usa per dire satellite, quindi di fatto vuol dire satellite, semplicemente. 1957, uno dei due famosi cosmodromi dell'Unione Sovietica, Baikonur, fu quello da cui fu lanciato, poi Baikonur fu anche il cosmodromo da cui fu lanciato Gagarin nello spazio, non su uno Sputnik, ma attualmente è Kazakistan, non è Russia. Ecco, è già dallo Sputnik 2, che fu lanciato poi subito dopo, e la figura che vedete qui è Sputnik 2, poi anche gli americani cominciarono a lanciare, il primo satellite artificiale americano fu successivo a quello sovietico, era Explorer 1, comunque 1958, e già questi due satelliti furono utilizzati per scopi di geodesia, perché fu possibile determinare con maggiore esattezza, maggiore precisione rispetto alle conoscenze precedenti, lo schiacciamento terrestre. E questo è, come vi dicevo prima, il più grosso effetto dopo l'effetto di campo centrale sul campo gravitazionale terrestre. E allora qui, ho aggiunto al volo stamattina, è il libro di Cola, quello che è servito a tutti noi che facciamo geodesia spaziale, o l'abbiamo fatta, il Theory of Satellite Geodesy, cioè come usare i satelliti artificiali per applicazioni di geodesia, 1966. Allora adesso vado veramente velocemente, perché qua ce ne sono tantissimi di satelliti interessanti, e vediamo anche proprio come la tecnologia si è evoluta e come la geodesia l'ha sfruttata. Essenzialmente, ecco, ma che cosa si misura dallo spazio? Prima cosa, la posizione del satellite nello spazio, perché è influenzata dal campo gravitazionale terrestre, quindi sapere dove è il satellite ci permette di ricostruire il valore della gravità nel punto dove si trova il satellite. Quindi c'è tutto, adesso vi mostro, tutta una serie di satelliti che servivano come satelliti da tracciamento, con vari tipi di strumentazione. Quindi il satellite era, ed è tuttora, perché ce ne sono tuttora diversi in orbita, la proof mass, quella che veniva tracciata da Terra. E la prima serie di satelliti per il tracciamento per geodesia spaziale fu la serie ECO degli Stati Uniti. Questi erano i satelliti pallone, cioè erano letteralmente dei palloni di 30-40 metri di diametro, che ovviamente non venivano lanciati come palloni, ma venivano gonfiati una volta in orbita, ed erano di dimensioni così grandi, e di un materiale molto particolare, un materiale che si chiama Mylar, ma non essendo un chimico non vi so dire molto di più, è un polietilene, ecco, una pellicola riflettente praticamente, dello spessore di pochi micron, poteva essere visto da Terra occhio nudo, poteva essere fotografato, fotografato sullo sfondo delle stelle fisse, e così veniva determinata la posizione del satellite. Quindi c'è tutta questa serie, vedete, sono proprio dei palloni, erano, erano, perché se vedete, lanciati all'inizio degli anni Sessanta, rientrati nell'atmosfera e quindi distrutti dopo qualche anno di vita in orbita attorno alla Terra, e queste sono proprio foto dell'inizio degli anni Sessanta che ho recuperato, insomma, anche foto della NASA. Eco 1, Eco 2, erano satelliti in quota abbastanza alta, quindi 1.600 chilometri è una quota non ancora molto alta, ma abbastanza, l'effetto del campo è abbastanza attenuato, però si riusciva ad avere alcuni, a stimare alcuni coefficienti del modello di Geoide. sempre per scopi di tracciamento ottico, quindi satelliti che potevano essere fotografati, ribadisco, da Terra, su lastre di vetro, ancora si fotografava non su pellicola per queste applicazioni, ma su lastre di vetro. Poi subito dopo Eco ci fu il programma che era chiamato Pageos, il satellite pallone del diametro di una trentina di metri. La cosa interessante di questo programma di osservazioni Pageos fu che insieme alle osservazioni, diciamo, le osservazioni erano sempre quelle, fotografare il satellite sullo sfondo delle stelle fisse per determinarne la posizione nel campo gravitazionale terrestre. Quindi scopo, determinare un certo numero di coefficienti di modello di Geoide, ma anche possibilità, questa è una vecchissima foto, immagine, copiata da una figura di un vecchio rapporto NASA. Scusate, vado un po' velocemente. Ecco, questa è la figura che mostra la rete delle stazioni di tracciamento a terra, cioè le posizioni dove c'erano le camere che potevano fotografare il satellite. Quindi una trentina di stazioni a terra, di cui poi si sono calcolate anche le coordinate. Di fatto questa fu la prima rete unica di inquadramento, di riferimento sulla superficie terrestre. erano stazioni non intervisibili da terra, quindi non si sarebbe potuto determinare la posizione reciproca con metodi topografici tradizionali, ma invece si poteva farlo grazie a questo programma PAGEOS. Quindi, due risultati. il primo modello di geoide da dati ottici, quello che si chiamava Standard Earth 1, dello Smithsonian Astrophysical Observatory, e le coordinate di 25 stazioni a terra, con una precisione che al giorno d'oggi sembra un po' ridicola, però, negli anni 60, per un'accuratezza globale sulla rete delle stazioni di 5-15 metri, era un risultato già molto interessante. E poi, questo dobbiamo ricordarlo, non so se riuscite a vedere questa stazione a nord della Norvegia, Tromso, quella che sto indicando col puntatore, e, se ci vedo bene, questa Catania. Ecco, la baseline Tromso-Catania fu misurata grazie anche alla collaborazione di quello che allora era l'Istituto di Topografia del Politecnico di Milano, nella persona del professor Sansò, quindi possiamo ricordarlo di nuovo. Ecco, dopo il tracciamento ottico, sempre per quanto riguarda dati di tracciamento da satellite, c'è tutta una serie di satelliti, dotati di questi Corner Cube Prisms, cioè prismi retro-riflettenti. Questi satelliti hanno, lo vedrete adesso qualche figura, hanno proprio l'aspetto di sfere, palle, di 30-60 cm di diametro, completamente coperti di questi prismi retro-riflettenti, vengono tracciati da terra, non più con tracciamento ottico, ma con tracciamento laser, quindi da una stazione dotata di un apparato laser a terra. Di questi satelliti, vabbè, il primo si chiamava B con B, sempre all'inizio degli anni 60 degli Stati Uniti, poi altri di questa serie, già vedete che l'accuratezza era scesa di un ordine di grandezza, un metro, un metro e mezzo, adesso siamo a qualche millimetro, ecco il laser, tutti i satelliti che si usano in geodesia, che si sono usati, ormai sono equipaggiati con alcuni prismi retro-riflettenti, perché comunque danno modo di tracciare il satellite con elevata accuratezza. Vado un po' velocemente adesso su queste. Questo è stato un esperimento interessante di tracciamento, una rete di stazioni che tracciavano sia in maniera ottica che con laser, e sono state utilizzate entrambi i tipi di misure di tracciamento, e quindi con una rete, con questo esperimento ISAGEX, che ha dato luogo a nuovi modelli standard Earth, il numero 2 e il numero 3, e poi è iniziata la serie di modelli che in geodesia sono molto famosi, GEM e Grimm, che poi sono stati migliorati fino agli anni 80 e forse anche oltre. Ecco, questo è l'aspetto dei satelliti per il tracciamento laser, vedete, sono proprio delle sfere completamente coperti di prismi retro-riflettenti. L'Ageos è ancora in orbita nello spazio, entrambi L'Ageos e credo anche Etalon 1 e 2, che sono gli equivalenti russi. Questo è l'aspetto di Etalon e questo di L'Ageos. A L'Ageos 2 ha partecipato anche l'Agenzia Spaziale Italiana, quindi c'è una partecipazione italiana a questo progetto, e poi i francesi hanno lanciato Starlight e Stella, quindi ce ne sono diversi di questi satelliti per tracciamento laser. Questi satelliti sono in un'orbita sempre abbastanza alta, l'Ageos è circa 6.000 km, Stella e Starlight meno di 1.000 km, quindi decisamente in orbita più bassa, hanno una massa anche più piccola, però appunto non ho riportato tutti i dati, e ripeto, vado via un po' velocemente. Questa è la stazione di tracciamento laser del GFZ a Potsdam, e questa figura è solo, così come dire, bella perché è laser in funzione durante una misura notturna, quindi è solo bella da vedere, non è significativa per qualche motivo. Ecco, poi, tracciamento di satelliti. La tecnologia ha permesso, dopo qualche anno, di cominciare a fare esperimenti di tracciamento con segnali in radiofrequenza. Questo è interessante, diciamo i primi esperimenti li hanno fatti addirittura all'inizio degli anni Sessanta. Il primissimo è fallito, il primo transit non era andato molto bene, però il secondo transit era stato testato con successo, quindi nel Sessantaquattro hanno iniziato a usare questo sistema transit di tracciamento Dopple, essenzialmente per scopi di navigazione. Questo era un sistema implementato per la Marina degli Stati Uniti, ed è il precursore del GPS. Prima del GPS c'era transit, di fatto è diventato obsoleto quando hanno cominciato a utilizzare il sistema GPS. però lo scopo del satellite era di inviare il segnale a terra, il segnale veniva ritrasmesso sul satellite, veniva misurato l'effetto Doppler al momento della ricezione del segnale riflesso. Questo ho proprio sottolineato, io lo faccio notare sempre ai miei studenti, perché il GPS funziona così come transit, quindi ovviamente con miglioramenti tecnologici, ma il principio è quello, perché il segnale non viene inviato da una stazione a terra, da una posizione sulla superficie terrestre, il segnale viene inviato dal satellite verso la superficie terrestre, quindi poi viene ricevuto, veniva trasmesso nel caso delle misure Doppler. Siccome questi sono tutti sistemi nati per scopi militari, se il punto a terra non invia un segnale non è rintracciabile in linea di principio, quindi l'idea era quella, la stazione a terra non invia nessun segnale, riceve solamente una stazione ricevente, non deve poter essere localizzabile, è il motivo per cui è stato pensato in questo modo, poi è stato utilizzato appunto fino all'avvento del GPS, ed è stato utilizzato, questa è proprio una curiosità che ho scoperto anche in coppia, con satelliti spia nel periodo della guerra fredda, quindi il transit veniva lanciato anche insieme a altri satelliti di una serie di cui io non sapevo niente fino ad aver fatto un po' queste ricerche per mia curiosità, questa serie si chiamava Grab, ed erano satelliti spia dell'intelligence degli Stati Uniti. Però venivano, come dire, se ho capito bene, camuffati e lanciati insieme a satelliti che avevano appunto scopi più, come dire, trasparenti, più non misteriosi, ecco. E questo, sempre per curiosità, ma ve la faccio notare perché qua ci sono davvero delle particolarità interessanti. Questo è un esempio di strumentazione di una stazione di tracciamento Doppler per la serie dei satelliti transit. Tutta questa strumentazione intanto è analogica, è molto analogica, è talmente tanto analogica che guardate il numero 5. Lo vedete? Il numero 5, che corrisponde all'archivio delle efemeridi, cioè delle posizioni del satellite, approssimate lungo l'orbita. Per tracciarlo devo sapere prima in maniera approssimata dove lo trova. Sono dei fogli di carta. D'accordo? Quindi il supporto è molto analogico. E anche, è interessante, il numero 12, un nastro di carta perforato, immagino per memorizzare informazioni, e poi ne avevo trovati altri cercando, insomma, sempre... Ah, ecco, il 4. Il 4 sono parametri di conversione di sistemi di tempo, di misura di tempo, anche lì su carta, su fogli di carta. Quindi, insomma, direi che è una curiosità, ma teniamone conto, anni 60. Ecco, Poi anche i francesi, l'agenzia spaziale francese ha al suo attivo davvero molte missioni, a parte qualcosa che magari ho un pochino saltato prima, però dobbiamo cominciare a tenerne conto. Negli anni 60 erano già attivissimi, avevano cominciato a lanciare satelliti per misure Doppler, e poi, grazie ai francesi che abbiamo avuto missioni molto... alla tecnologia, diciamo, francese, che abbiamo avuto missioni molto recenti e molto interessanti per il campo della gravità. Poi, vorrei andare, ma davvero, due parole, molto molto velocemente sulla radar altimetria, che fra l'altro è una parte della geodesia spaziale, che è quella che io forse conosco un pochino di meno, non me ne sono mai occupata direttamente in maniera particolare, però la radar altimetria consente attraverso strumenti dei radar a bordo dei satelliti di misurare la distanza rispetto alla superficie degli oceani, quindi misurano solo su acqua o sulle calotte polari, sul ghiaccio, insomma. Perciò ci possono dare una gran quantità di dati, ma non sulla terraferma. E comunque la radar altimetria ha un grosso... non problema, insomma, perché ovviamente si risolve, però bisogna tenere presente, io prima vi ho detto, il geode, lo facciamo coincidere con la superficie degli oceani in condizioni molto ideali, ma se in condizioni ideali non siamo, c'è uno scostamento fra la superficie dei mari, quella che nella figura qui si chiama SST, sea surface topography e il geode, e questa distanza, questa differenza bisogna poterla discriminare. Allora tipicamente, e semplificando anche qua un pochino, o conosco un buon modello di geoide e riesco a stimare la superficie dei mari, questo per gli oceanografi, per le applicazioni di oceanografia è quello che si vuole fare di solito, o viceversa, conosco un buon modello di sea surface topography e uso i dati per poi scrivere equazioni che mi permettono di ricavare il modello di geode. Ci sono stati tanti satelliti equipaggiati per la radar altimetria, i più famosi sono i satelliti ERS dell'Agenzia Spaziale Europea, che sono stati lanciati all'inizio degli anni 90, le due missioni sono terminate, questi erano satelliti per telerilevamento fondamentalmente, quindi portavano davvero una quantità di strumentazione molto variegata, fra cui però vedete il radar altimetro, questa sigla prare indica che erano equipaggiati con un Doppler e anche dei prismi retro riflettenti per il tracciamento laser, più un'antenna SAR, cioè un sintetica per radar, più altra strumentazione per misure di altro genere, non specificamente di geodesia. Questo è l'aspetto dei satelliti ERS che avevano, perché 2000-2001 le missioni sono terminate. Poi un'altra famosa, davvero famosa missione di radar altimetria è stata Top Exposeidon che ha avuto anche dei successori. Ecco, voglio dedicare gli ultimi dieci, cinque, dieci minuti, cinque, dieci minuti alle misure moderne, alle missioni moderne per la misura del campo della gravità e qua dobbiamo davvero dar credito ai francesi, secondo me, in questo caso, quindi abbiate pazienza, ho preso proprio a copia e incolla e ho lasciato in francese, credo che tutti siamo in grado di leggere, questo è molto semplice. Ecco, i francesi, nella metà degli anni 70, lanciarono due satelliti, Castor e Pollux, credo che si pronunci, bassi, in orbita bassa, perigeo di 300 km, io vi faccio notare i dati importanti di questa missione, quindi rispetto ai satelliti per la radar altimetria o per il tracciamento laser, come minimo siamo a 1000 km, qua siamo davvero in orbita bassa, sono proprio quelli che si chiamano Low Earth Orbiters, cioè LEO, satelliti LEO in orbita bassa attorno alla Terra. Certo, era un'orbita molto ellittica, perché perigeo 300 km, l'apoggio 1290, però riusciva ad arrivare anche al perigeo davvero basso, vicino alla superficie terrestre. Questi, qua vedete, i due satelliti che erano accoppiati, erano due gemelli praticamente, ma poi venivano separati in orbita. Avevano due scopi completamente diversi, in realtà a noi interessa Castor. Allora, Polluce, diciamolo in italiano, serviva per testare un nuovo sistema di propulsione, purtroppo ho letto che il test non era andato molto bene, ma Castor doveva servire essenzialmente per testare un accelerometro, che dal punto di vista della geodesia è molto famoso e se lo leggiamo alla francese Cactus. E questo accelerometro triassiale, ultrasensibile, era sviluppato in Francia dall'Onerà, tuttora l'Onerà è l'azienda leader per quanto riguarda l'accelerometria, la misura dell'accelerazione e la produzione di accelerometri. Questo test è stato fondamentale, poi appunto io ho lasciato anche la parte che riguarda il gemello sfortunato, perché il gemello sfortunato ha avuto vita breve e pare che questo test del nuovo propulsore non avesse funzionato granché bene, però i test sull'accelerometro avevano funzionato molto bene, il satellite è stato in orbita circa 4 anni, un po' meno di 4 anni, ha dato dei risultati molto buoni e sul fatto di aver potuto sviluppare un accelerometro di qualità così elevata e di sensibilità così elevata sulla misura triassiale, quindi l'accelerometro triassiale ha permesso poi di sviluppare tutte le missioni moderne di geodesia spaziale, perché di fatto, anche qua detto molto in breve un po' semplificando, mettere in orbita un accelerometro all'interno di un satellite significa poter determinare le forze di superficie che agiscono sul satellite, che ovviamente è soggetto al drag, dovuto all'attrito atmosferico, a tutta una serie di altri, alla pressione di radiazione solare. Questi effetti di superficie devono essere discriminati dall'effetto del campo gravitazionale, perché devono essere in qualche modo depurati per trovare il modello di campo gravitazionale. Si può fare solo con accelerometri molto sensibili. Allora, tenete conto che il cactus poteva misurare accelerazioni con un'accuratezza di 10 alla meno 9 metri al secondo quadrato, scusate, in metri al secondo quadrato. Gli accelerometri che hanno volato a bordo di Goss, che è stata l'ultima missione di geodesia spaziale terminata recentemente dell'Agenzia Spaziale Europea, tre ordini di grandezza meglio, 10 alla meno 12 metri al secondo quadrato ed è davvero una sensibilità notevole per questi strumenti. Ecco, in base allo sviluppo degli accelerometri, poi si è cominciato a pensare, allora, se mettiamo a bordo dei satelliti, satelliti dedicati a misure di geodesia spaziale, uno o più accelerometri, possiamo sfruttare le misure in diverso modo, secondo tre diversi concetti che sono i concetti attuali della geodesia spaziale, primo modo, ho l'accelerometro a bordo del satellite, un accelerometro, sono sempre accelerometri dell'ONERA, e lo dico una volta per tutti, tutti quelli utilizzati sono stati sviluppati all'ONERA. Metto l'accelerometro a bordo del satellite, quindi con un certo tipo di misure, di equazioni, riesco a discriminare gli effetti di superficie sul satellite, li depuro, il tracciamento del satellite viene fatto dai satelliti GPS, certo, naturalmente, nel frattempo si è sviluppata anche la tecnologia GPS, e questo è un tracciamento high-low, come si suol dire, cioè da high, l'orbita del GPS, tenete conto che i GPS sono circa 20.000 km di quota, a low, dove si trovano questi satelliti con gli accelerometri a bordo, che devono essere in orbite basse, massimo 400-450 km, non di più. Oppure, altro concetto, traccio i satelliti sempre da GPS, ma i satelliti sono due, è una missione con due satelliti gemelli che si inseguono lungo un'orbita, a bordo ho gli accelerometri, sempre per misurare gli effetti di superficie, quello che misura è la distanza reciproca fra i satelliti mentre si muovono lungo l'orbita, ovviamente varia a seconda degli effetti del campo gravitazionale che incontrano lungo la loro orbita. Terzo concetto di missione, non uso un accelerometro a bordo di ogni satellite, uso tre coppie di accelerometri a bordo di un satellite, quello che misura sono le differenze di accelerazione e questo è il concetto della missione GOS, ovviamente qua vedete sempre il satellite tracciato dal GPS perché si fanno delle misure di tracciamento del satellite lungo l'orbita dalla costellazione GPS e in più si hanno le misure che non sono più di accelerometria ma sono di gradiometria perché sono differenze di accelerazione. Quindi nel tempo sono state sviluppate queste tre, le tre più recenti missioni di geodesia spaziale proprio dedicate alla geodesia spaziale in cui fra l'altro l'Europa ha avuto una grossa parte. CHEMP dal 2000 al 2010 vedete l'orbita 450 chilometri è circa la quota della stazione spaziale internazionale per avere un'idea è una missione tedesca questa il satellite non è bellino da vedere ma insomma questo aspetto che vedete qui con quella lunga asta perché aveva anche un magnetometro a bordo che viene sempre messo all'estremità di un'asta che lo tiene abbastanza lontano dal corpo del satellite e questo ecco io non vi ho più fatto vedere modelli di geode ma insomma non si è ricavato un solo modello di geode se ne sono ricavati molti nei dieci anni di vita di CHEMP questo è uno dei modelli ricavati dai dati quindi dal tracciamento da GPS e dalle misure di accelerometria fatte a bordo del satellite GRACE è l'altro concetto di missione anche qua i satelliti perché sono due satelliti gemelli che si tracciano reciprocamente lungo in realtà è uno che traccia l'altro lungo l'orbita stanno ancora volando questi due satelliti è l'ultima di queste tre missioni moderne di geodesia spaziale che è ancora in orbita è in fase come si dice di extended mission nel senso tutte queste missioni sono durate molti più anni di quanto gli ingegneri aero spaziali avevano previsto inizialmente per fortuna e quindi GRACE è in fase di extended mission e dovrebbe durare ancora fino all'anno prossimo ed è in orbita dal 2002 quindi un tempo di vita piuttosto lungo questa missione è servita anche a determinare le variazioni nel tempo del campo gravitazionale terrestre questo è un esempio di modello ricavato da GRACE e poi dedico davvero gli ultimi due minuti a parlarvi di GOES a cui tengo particolarmente perché il Politecnico di Milano è uno dei gruppi che partecipa all'analisi dei dati di questa missione di geodesia spaziale ecco il gruppo appunto del professor Sansò e ci abbiamo lavorato negli anni non solo io ma altre persone ci stanno tuttora lavorando vi faccio notare intanto il satellite è molto particolare non sembra un satellite sembra un razzo è aerodinamico in maniera davvero incredibile qua gli ingegneri aerospaziali hanno fatto un lavoro incredibile ripeto e è stato progettato e costruito a Torino in Talessa Alenia Space quindi è il progetto italiano tanto è vero che in Esa questo satellite lo chiamano la Ferrari dello spazio perché ha un design che nessun altro satellite ha mai avuto davvero confrontatelo solo con CEMP che pure una missione moderna è bruttino da vedere rispetto a questo e poi vi faccio notare a parte questo aspetto d'accordo è un aspetto estetico però è stato un lavoro notevole proprio dal punto di vista dei nostri colleghi aerospaziali vi faccio notare la quota la quota media di Goss 250 km vuol dire che Goss passava sotto la stazione spaziale internazionale ma molto sotto 200 km più in basso e così era davvero molto sensibile agli effetti del campo gravitazionale terrestre Goss è stato in orbita dal marzo 2009 alla fine dell'anno scorso novembre 2013 quindi quattro anni e mezzo avevano pensato che la missione potesse restare in orbita un anno e mezzo circa invece fortunatamente il combustibile che è stato necessario per mantenerlo alla quota corretta è stato molto meno di quello che erano stati conservativi ovviamente gli ingegneri nel fare il progetto ma le cose sono andate ancora meglio del previsto in realtà mi sono resa conto Goss gli ho scritto è rientrato nell'atmosfera il 13 novembre 2013 in realtà è rientrato nell'atmosfera l'11 novembre 2013 e gli ingegneri dell'ESA si aspettavano che bruciasse nel giro di poche ore ed è durato ancora più di 48 ore proprio per via della sua forma aerodinamica dopo si è disintegrato naturalmente al rientro a un certo punto è arrivato in un'orbita talmente bassa che necessariamente era la sua fine quello che vi faccio vedere proprio sono le ultime due penultime due figure l'assemblaggio degli accelerometri di Goss sono tre coppie di accelerometri elettrostatici dell'Onerà e la distanza fra i due accelerometri di una coppia è circa mezzo metro e quindi si misurano di fatto tutte le componenti del gradiente del campo gravitazionale terrestre e questa altra curiosità andavano testati gli accelerometri e nelle fasi di test un po' di accelerometri si sono distrutti però alla fine l'Onerà è riuscita a consegnare tutti e sei gli accelerometri i test venivano fatti da questa torre a caduta libera a Brema questo è l'aspetto mentre veniva assemblato a Torino e mentre veniva testato i propri satelliti la piattaforma in Olanda all'Estec che è uno dei centri dell'Agenzia Spaziale Europea e infine concludo questo è uno dei modelli ricavato dai dati GOSS nominalmente potremmo pensare di arrivare a stimare tutti i coefficienti con GOSS tutti i coefficienti del modello fino a grado 220 addirittura 250 però tenete conto se vogliamo dargli a maggiore risoluzione dobbiamo usare anche misure di gravità da terra naturalmente questi sono solo dati da satellite solo dati da GOSS questa mappa di geoide queste sono ondulazioni di geoide quindi metri vedete anche la scala qua si vede bene questo è stato calcolato il primo modello che abbiamo calcolato col Politecnico di Milano a luglio 2010 con i primi mesi di dati GOSS dopo ne abbiamo calcolati altri in realtà i miei colleghi stanno ancora calcolando nuovi modelli più aggiornati perché quando GOSS ha cominciato a decadere su orbite più basse e quella è stata una scommessa lasciarlo scendere su orbite più basse perché alcuni dicevano non dura su orbite più basse cadrà molto velocemente si distruggerà invece è rimasto diversi mesi su orbite davvero molto più basse dei 250 km nominali e quei dati sono preziosissimi perché l'effetto del campo gravitazionale che sentono è davvero ancora più elevato certo che è un lavoro che ha bisogno di una grande collaborazione internazionale tu hai citato i nostri i nostri contributi però beh allora solo per dare un'idea sono missioni che richiedono almeno una ventina d'anni la mia esperienza per quanto si limita a una missione e al precursore di questa missione però io lavoro su questi argomenti dal 1987 fondamentalmente quando c'era un vecchio concetto di missione per la gradiometria che si chiamava Aristoteles e ci sono voluti circa 20 anni per mandare in orbita i satellite e ci vorranno almeno 10 anni per sfruttare tutti i dati e studiarli ci vogliono grossi o medio grossi gruppi di ricerca su GOS lavorano 10 gruppi di ricerca a livello europeo solo per l'analisi dati solo per l'analisi dati no poi per la costruzione di tutte costruzione è stata italiana in questo caso per questo ci tenevo a sottolinearlo il centro di controllo di GOS dell'ESA è in Germania il lancio è stato fatto a Plesetsk sì Plesetsk in Russia quindi il vecchio citato nel 1957 Sputnik era un autarchico e non poteva certo seguire e avere delle degli scopi di tipo geodetico no no però già con Sputnik 2 vi facevo notare sono riusciti a determinare con una certa accuratezza lo schiacciamento terrestre sì 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 sono domande nel corso della conferenza è stato osservato qualcosa anche riguardo alla misura del campo magnetico ci puoi dire qualche cosa? sì anche qua gli aspetti sono talmente tanti quando si parla di questi satelliti che è davvero difficile che io riesca a essere esauriente su tutto però vi avevo fatto notare semplicemente che questo satellite ha quella lunga asta la figura già satellite non è bello la figura non è meravigliosa sono questi rendering che fanno per dare un'idea di che aspetto ha quest'asta tecnicamente in inglese si chiama boom è fatta apposta per avere il magnetometro all'estremità quindi sì si fanno misure del campo magnetico erano pensate anche per il precursore di Goss che si chiamava Aristotele che io l'ho studiato durante il dottorato che poi è stato sostituito da Goss semplicemente perché la tecnologia è stata superata è molto avanzata si pensava di avere quest'asta con il magnetometro credo che l'idea dell'asta è perché il magnetometro deve stare abbastanza lontano appunto dal corpo del satellite per non risentire gli effetti del satellite dopodiché si fanno queste misure che qualcuno che è esperto di determinazione del campo magnetico terrestre riesce a sfruttare su Goss non è stato posto nessun magnetometro non c'è non mi risulta che ci fosse ci sono su altri satelliti se vedete una lunga asta in cima un satellite è un magnetometro adesso lo sapete no? questa è un'antenna ma bisogna cercare bene perché ormai ecco questo GeoSat è possibile che avesse anche il magnetometro perché perché ormai questi satelliti dagli anni Ottanti in poi portavano tutta una serie di strumenti molto complessi non è semplicemente dei satelliti pallone ecco ci sono altre? l'altra cosa invece era da quello che si è detto sembra che si possa cioè quello che si tratta è di individuare la gravità terrestre ma non si è capito se riguarda semplicemente la superficie o anche eventualmente distribuzione di masse interne ah sì certo la geodesia si occupa anche di quelle è un interessante problema inverso cioè studio la gravità sulla superficie terrestre e cerco di determinare le masse che generano il campo non è un problema banale fino a dieci minuti fa c'era qui in sala il professor Barzaghi che è davvero un esperto di questo aspetto della geodesia infatti si lavora di solito a contatto con i geofisici ci sono molti scopi anche davvero pratici applicativi come ricerche petrolifere ricerche minerarie non è un problema banale da risolvere però è un problema diverso rispetto a quello di cui ho parlato oggi cioè parlavo della determinazione del geode quindi della forma della superficie terrestre se volete risolvere il problema inverso io conosco il campo e cerco di risalire alle masse che l'hanno generato non è certamente banale questo meriterebbe credo tutto un altro seminario però da parte del professor Barzaghi vi ringrazio